Bene, quindi cominciamo. Buonasera e grazie a tutti voi che siete qui intervenuti. Io vi ringrazio e ringrazio il Comune di Castegnato per questa serata, in particolare un ringraziamento a Giulia Bonomelli, a Fabio Piovanelli di Rinascimento Culturale e Alberto Albertini, sempre di Rinascimento Culturale, ovviamente per la possibilità che mi state dando. Siccome questa chiacchierata so che finirà anche su YouTube, facciamo un saluto anche a quelli che poi mi ascolteranno attraverso il canale. Allora, veniamo a Napoleone. La nostra storia si colloca nel 1796, qualche anno dopo lo scoppio della rivoluzione francese in Francia, come immagino sapete. La domanda che ci possiamo fare è che cosa ci fa Napoleone a Brescia nel 1796, come mai è in Italia e come mai ci è arrivato. Allora, Napoleone nel 1796, scusate, era un giovanissimo generale della Francia rivoluzionaria e quindi diamo un attimo di descrizione su quella che era la Francia rivoluzionaria di quel periodo. Il potere esecutivo in Francia in quel periodo era appannaggio del direttorio. Che cos'è il direttorio? Il direttorio è un po' come il nostro governo. Il direttorio cosa decide di fare? Il direttorio decide di affidare il comando dell'armata d'Italia al 26enne Bonaparte, per cui il 2 marzo 1796 viene firmata la sua nomina e non so se qualcuno di voi ha dei ricordi scolastici della rivoluzione francese, in particolare del periodo del direttorio. Comunque sia, il periodo del direttorio è la fase finale dell'esperienza rivoluzionaria e la storiografia moderna ha identificato nel periodo del direttorio il superamento della rivoluzione francese. È il momento in cui sostanzialmente si tenta, nell'ambito della Francia, una normalizzazione della situazione politica, economica e sociale dopo il bagno di sangue della rivoluzione e la dittatura del terrore di Robespierre. Come dicevamo, il periodo del direttorio è la fase finale dell'esperienza rivoluzionaria. Il 22 agosto 1795 era stata promulgata la Costituzione dell'anno terzo ed era stato creato il direttorio, cioè come dicevamo prima, l'organo del potere esecutivo in Francia, una sorta di consiglio del ministro. La fase del direttorio, così la collochiamo anche cronologicamente, va a grosso modo dal novembre del 1795 al novembre del 1799. Il direttorio, vale la pena forse ricordarlo, termina il 18 brumaio 1799 per opera del nostro, Napoleone, per il colpo di Stato che ha fatto appunto in quella data. Anche se, come dicevamo, si sta cercando di mettere a posto le cose nella Francia, perché in politica interna il direttorio ha un approccio moderato, la fase del direttorio in Francia rimane comunque un periodo di grande conflittualità sociale e politica. La Francia è in bancarotta ed è ancora in guerra con l'Austria e con l'Inghilterra. Era una guerra che durava ormai da alcuni anni, infatti era iniziata nel 1792. A capo del direttorio, qui vedete in questa immagine i cinque direttori, a capo del direttorio vi era quel signore che vedete lì a destra che è Paul Barrat. È proprio lui, sul suggerimento di Lazare Carnot, che è il membro del direttorio incaricato per gli affari militari, che viene affidato il comando dell'armata d'Italia a Napoleone Bonaparte. Come dicevamo, la nomina è firmata il 2 marzo 1796. E veniamo al nostro, veniamo a Napoleone. Allora, Napoleone comincia a sgomitare sulla scena francese per farsi spazio proprio nel periodo del direttorio. Lui era nato ad Agiaccio il 15 agosto 1769 ed era ovviamente di nazionalità francese in quanto l'isola era stata ceduta dalla Repubblica di Genova alla Francia un anno prima che Napoleone nascesse, cioè nel 1768. La sua lingua nativa, questo non so quanti lo sappiano, era comunque l'italiano, per cui lui ha sempre avuto una certa difficoltà a parlare e a scrivere in francese. Studia alla scuola reale di Brienne e poi alla regia scuola militare di Parigi. Diviene sottotenente di artiglieria, quindi ha fatto la carriera militare, è una persona indubbiamente intelligente, ambiziosa, è un lettore vorace di testi classici, soprattutto di testi militari. Diciamo una cosa come dice qualche storico, Napoleone dal punto di vista politico è un ateo, è un opportunista, è una persona che si schiera secondo la convenienza. All'inizio ad esempio della sua carriera sposa la causa dell'indipendenza corsa di Pasquale Paoli e successivamente però per opportunismo si avvicina alla sua seconda patria che è la Francia. La Francia avvicinandosi alla Francia ovviamente rinnega il suo passato indipendentista corso e diventa, si schiera, diventa chiaramente di fede repubblicana. È in quel periodo che è molto vicino ai Giacobini che nel momento del successo politico di Robespierre addirittura diventa amico intimo del fratello di Robespierre. Nel 1792 Bonaparte che da quando è abbracciato la fede francese ha tolto la U nel nome perché prima era Bonaparte poi è diventato Bonaparte ha 23 anni ed è all'assedio del porto di Tolone e qui che Bonaparte ha il primo vero successo militare libera la città che era stata presa dai monarchici che erano appoggiati dagli inglesi. Ha il suo momento di gloria e come molti militari del periodo riesce a salire rapidamente i gradi della carriera militare e viene nominato generale di brigata. Con la svolta del termidoro e l'eliminazione di Robespierre anche Napoleone che era collegato a Robespierre cade in disgrazia. Tuttavia viste le sue capacità militari e visto che quando c'è una rivoluzione c'è sempre bisogno di buoni militari riesce a scampare alle epurazioni non finisce anche lui come Robespierre sotto la ghigliottina. Nei salotti parigini entra in confidenza con il capo del direttorio cioè con Paul Barrac, quel personaggio che abbiamo visto prima. Addirittura nel 1795 Napoleone riesce a reprimere una rivolta filomonarchica a Parigi usando abbastanza allegramente il cannone. Qualche storico ha detto che in quel momento Napoleone era diventato la spada di Paul Barrac. Era anche diventato qualcosa d'altro come vedremo qui. Nel frattempo Napoleone è un bel giovinastro anche delle avventure amorose. A un certo punto si innamora pure di una certa Rose Tascher che era all'epoca l'amante di Paul Barrac che era il capo del direttorio. Questa Rose Tascher della Pagerie magari è poco nota con questo nome è meglio nota come Giuseppina di Buarnet che era di sei anni più vecchia di lui e che lui successivamente sposerà. Era la vedova di un aristocratico e si era sistemata con il capo del direttorio. La bella Creola, perché veniva chiamata così perché era nata nelle Antille, era nata nella Martinica francese e diventerà sua moglie il 9 marzo 1796, cioè sette giorni dopo che lui era stato nominato comandante dell'armata d'Italia. Vi ricordo che lei era l'amante di Paul Barrac per cui c'è qualcuno che dice che la nomina a comandante dell'armata d'Italia sia stata un po' il regalo di nozze di Paul Barrac a Napoleone. Insomma c'era una storia a tre con dei giri strani che non sono ben chiari. L'11 di marzo il Bonaparte lascia la moglie appena sposata perché se l'ha sposato due giorni prima il 9 di marzo e si dirige al comando dell'armata d'Italia. Allora questa è la situazione geopolitica dell'Europa nel 1796. La Francia era ancora in guerra abbiamo detto con l'Austria e con la Germania e anche con il regno di Sardegna. Come dicevamo era una guerra che era cominciata nel 92 e perdurava. Nel 1796 il direttorio decide per, il direttorio francese, per un'offensiva degli eserciti francesi. Qual era l'idea? L'idea era quella di acquisire nuovi territori e come dire esportavano anche loro qualcosa. Adesso c'è gente che esporta la democrazia. Questi esportavano libertà, uguaglianza e fraternità. Ovviamente andava esportata all'estero. Soprattutto andava esportata se i paesi in cui andavano a finire erano dei paesi ricchi e che potevano finanziare lo sforzo bellico e le ridotte finanze rivoluzionarie che come abbiamo detto erano in bancarotta. L'offensiva principale che prevede di fare il direttorio non è in Italia. L'Italia era vista come un fronte secondario ma l'offensiva principale è adesso tiriamo fuori il mouse così ve lo faccio vedere. L'offensiva principale è qui sul Reno. Queste due armate, l'armata della Sambre e della Mosa e l'armata del Reno e della Mosella. Qui così era l'offensiva principale. Di fatto su questo fronte capiterà poco e invece il nostro, Napoleone Bonaparte, sfrutterà abilmente il comando che gli è stato dato sul fronte italiano, la cosiddetta armata d'Italia. Allora, attenzione, questa è l'idea che i cosiddetti liberatori francesi, perché qualcuno pensa che erano i liberatori francesi, avevano dell'Italia. Questo è François Cacot che era un diplomatico francese che operava in Italia. Sentite cosa scrive. La bella Italia, ricca, deliziosa ma disarmata, è sempre stata oggetto di invasioni di popoli guerrieri che se ne sono impadroniti. Penso che potremmo entro un anno conquistare e possedere Piemonte e Lombardia austriaca. Poi l'Italia potrà dividersi in tre parti, di cui quella settentrionale comprenderebbe Piemonte, Lombardia, il Ducato di Modena, quello di Parma, Bologna e Ferrara. In Francia la libertà è nata dal popolo, in Italia sarà data dal diritto di conquista. Direi che è interessante, visto che è un'osservazione di due anni prima della campagna d'Italia di Napoleone, valeva la pena forse che ve lo segnalassi. L'Italia nel 1796 come era messa? Come al solito l'Italia è messa un po' male. Anche adesso non siamo molto diversi. Io farei una riflessione profonda sulle cose che vi ho letto prima. L'Italia nel 1796 era divisa, e questa non è una novità, c'erano tante piccole entità statuali. Per quello che ci interessa guardiamo da vicino il nord Italia, che è quello che poi ci interessa. C'era la Repubblica di Genova, che più o meno è l'attuale Liguria. Poi c'era il Regno di Sardegna, che più o meno è l'attuale Piemonte, più la provincia di Pavia, perché la provincia di Pavia è sempre stata sotto il Regno di Sardegna. E poi, ecco, il Regno di Sardegna, li vedete, aveva anche uno sbocco sul mare, perché aveva anche inizia la Savoia al di là delle Alpi. La Lombardia, c'era la Lombardia austriaca. La Lombardia austriaca è una cosa un po' strana, non è come la Lombardia attuale, perché era formata dalla provincia di, grosso modo, l'attuale provincia di Milano-Varese-Como-Lecco e soprattutto la provincia di Mantova, perché invece Bergamo e Brescia, in quel periodo, facevano parte, come immagino molti di voi sappiano, della Repubblica di Venezia, che arrivava fino a Sondrio. Poi c'era tutto il Veneto, ma c'era una parte consistente di quella che attualmente è Lombardia, che era Repubblica di Venezia. A sud c'era il Ducato di Parma-Modena, Parma-Piacenza-Guastalla e il Ducato di Modena, e poi c'era lo Stato della Chiesa. Napoleone arriva in Italia, prende il comando dell'Armata d'Italia e trova un esercito ridotto in condizioni pietose. Questo è quello che scrive dell'esercito. Gli arsenali erano carenti di mezzi di trasporto, tutti i cavalli erano morti distenti, il quadro dell'armata era molto più fosco di quanto si potesse immaginare. Il pane era assicurato con grandi difficoltà, da tempo non si facevano più distribuzioni di carne. Figuriamoci le casse dell'esercito, figuriamoci i soldi, erano mesi che i soldati non pegliavano la paga. In compenso dobbiamo dire che i soldati francesi erano dei buoni soldati, combattevano bene e indubbiamente avevano un morale alto. Sempre Napoleone ci racconta, forse esagerando un pochino, direi che Napoleone è stato il primo utilizzatore a fondo della propaganda in guerra, ci dice appunto esagerando un pochino che, ma lo sono scritto, il morale dei soldati francesi era eccellente. Si erano segnalati e temprati sulle rocce delle Alpi e dei Pirenei. Le privazioni, la povertà e la miseria sono la scuola del buon soldato. Ecco qui vedete anche alcune immagini ovviamente moderne che ho preso per farvi vedere un po' l'aspetto tipico. In questo caso sono due soldati francesi delle guerre della rivoluzione francese. Vediamo che cosa succede quando Napoleone arriva in Italia, la prima campagna d'Italia, che è il momento in cui Napoleone arriva in Italia. C'è una prima fase, la cosiddetta conquista del Piemonte. Questa qui che vedete è la situazione strategica all'inizio della campagna. I francesi sono concentrati, sono concentrati, questo è importante, sono attestati lungo il ponente Ligure, li vedete qua in basso, vedete indicato col colore azzurro, e sono inferiori di numero, vedete sono 38 mila, rispetto agli eserciti combinati da un lato dei sardo piemontesi e dall'altro degli austroimperiali. Vedete che sono come un po' accerchiati, ci sono i piemontesi che sono a copertura di Torino, sulla linea che è grossomodo quella che va da Cuneo, Mondovice, va Carcare che è sulla Bormida e così via, sopra al colle di Cadibona che è dove c'è questa freccia rossa, che è il punto di collegamento con invece l'esercito imperiale. L'esercito imperiale austriaco che controlla invece Alessandria, Tortona, controlla sostanzialmente i rilievi montani che danno sulla Liguria. L'avversario di Napoleone è il 72enne austriaco generale Beaulieu, che vedete lì riportato a destra, era un veterano della guerra dei sette anni, quando ha combattuto la guerra dei sette anni Napoleone non era ancora nato perché in questo momento Napoleone ha 26 anni e qui c'è anche una grossa differenza di età che è sempre molto importante all'interno di una struttura fortemente gerarchizzata come sono le forze armate, come sono gli eserciti. Dal lato invece dei sardo-piemontesi, io li chiamo sardo-piemontesi, sarebbero da chiamare sardi, ma poi uno potrebbe dirmi ma la Sardegna non c'entra, ma si chiama Regno di Sardegna, io li continuerò a chiamare sardo-piemontesi per indicare meglio la loro provenienza. Erano comandati invece dal generale Colli, questo personaggio che vedete a sinistra, che aveva 58 anni all'epoca della guerra. C'era poi la flotta inglese che controllava il mare di fronte alla Liguria, per cui l'esercito francese era un po' compresso, era un po' circondato. Adesso vi faccio vedere una cosa che non c'entra con la campagna d'Italia. Questo però è una tipica strategia napoleonica che poi Napoleone utilizzerà per tutti i 19 anni successivi e si chiama strategia della posizione centrale o manovre per linee interne. Questa è una strategia che adesso si studia un po' in tutte le accademie militari del mondo. Diciamo che io comando gli azzurri che sono in numero inferiore rispetto agli arancioni quando sono collegati. Vedete, in totale sono 80.000 gli azzurri e 100.000 gli arancioni. Quindi io se affronto con l'esercito riunito, l'esercito riunito dell'avversario, sono destinato a soccombere. Allora che cosa faccio? Sfruttando la cosiddetta manovra per linee interne, cioè il fatto di essere all'interno tra i due eserciti avversari che sono al momento separati, io dedico una quota parte consistente delle mie truppe ad affrontare prima uno dei due nemici, in particolare in questa rappresentazione quello che sta a sinistra. Una volta sconfitto il nemico che sta a sinistra, io mi rivolgo al nemico che sta a destra e lo sconfigo a sua volta e ho la possibilità in entrambi i casi di sfruttare la superiorità numerica. È ovvio che per ottenere un risultato del genere è necessaria da un lato una grande rapidità di movimento e dall'altro una certa staticità e lentezza del nemico. Ecco questo è proprio quello che succede durante la prima fase della campagna d'Italia. Cosa succede? Ai primi di aprile del 1796 i francesi si muovono da Alassio, Albenga e finale Ligure e si concentrano attorno a Savona, lo vedete qui con queste frecce, una parte delle truppe francesi è rimasta comunque nella zona di Imperia per garantire le linee di comunicazione dell'esercito francese che portavano verso la Francia lungo la costa e poi anche per fare delle operazioni lungo la Valle del Tanaro che si trova in questa posizione. L'11 di aprile i francesi passano all'attacco e salgono per il colle di Cadibona che si trova qui sopra a Savona. I francesi prendono il nodo di Carcare che è lì sopra, che è il punto di congiunzione tra le due armate, quella sarda piemontese e quella austriaca, e il 12 aprile battono gli austriaci a Cairo, Montenotte, se qualcuno di voi va in vacanza da quelle parti magari sono dei nomi che ha sentito nominare. Il 13 i francesi battono i sardo piemontesi a millesimo e Cosseria e impegnano nuovamente gli austriaci ad Ego, cioè si stanno infilando in mezzo ai due eserciti. Nel contempo alcune truppe francesi si muovono lungo la Valle del Tanaro per delle azioni diversive. Nei giorni successivi, separati i due eserciti che erano collegati, i francesi si concentrano, io faccio così perché la vedo di qui, i francesi si concentrano sui sardo piemontesi e in particolare li battono il 24 aprile, vi ricordo che l'inizio dell'operazione è l'11 aprile, siamo al 24 aprile, quindi nel giro di una decina di giorni, li battono a Mondovì e addirittura il 26 di aprile i francesi sono ad Alba rischiando di tagliare le linee di comunicazione dell'esercito sardo piemontese con Torino. Il 28 aprile Vittorio Amedeo III sigla l'armistizio di Cherasco e in questo modo sia il Piemonte che la Repubblica di Genova rimangono alla mercè dei francesi e degli eserciti francesi. Gli austriaci si ritirano dal Piemonte e dalla Repubblica di Genova e vanno a ripararsi in Lombardia sostanzialmente dietro una barriera naturale che è costituita dal fiume Po. I francesi li tallonano da vicino. Con l'armistizio di Cherasco i francesi occupano il Piemonte Sabaudo e il re Vittorio Amedeo III gli viene consentito di rimanere sul trono e contemporaneamente anche la Repubblica di Genova viene occupata. A questo punto c'è una cosa interessante perché Napoleone dal direttorio da Parigi riceve questo ordine non lasciate nulla in Italia che la nostra situazione politica vi consenta di portare via e che possa tornarci utile. Per cui i liberatori francesi cominciano a riscuotere pesanti contributi in particolare diversi milioni dai sardo piemontesi e dalla Repubblica di Genova e intanto iniziano anche le raccolte di opere d'arte perché queste sono le due cose che sono capitate. Prima fase quindi sono stati fatti fuori i sardo piemontesi. Seconda fase della campagna d'Italia è la conquista della Lombardia. Pian pianino ci stiamo avvicinando anche a Brescia. Cosa succede? Come dicevamo gli austriaci si ritirano dietro al Po. La situazione che vedete qui rappresentata è quella che noi abbiamo nel 1796 grosso modo a fine aprile inizio maggio. Gli austriaci controllano i passaggi lungo il Ticino, questo è il Ticino, lungo il Sesia che è questo qui e lungo il Po che invece è questo. I fiumi erano usati come, come vi dicevo prima, come barriere naturali. Controllano il Po almeno fino al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla che era neutrale e qui lo vedete in bianco perché l'ho messo di proposito in bianco per far vedere che era neutrale. L'esercito francese invece è concentrato tra Alessandria e Tortona, qui così, con distaccamenti a Casale Monferrato e a Castelnuovo-Scrivia. Allora le aree bianche sono gli stati neutrali. Adesso anche qui ci fermiamo e facciamo un altro ragionamento di tipo strategico. Anche in questa fase della campagna Napoleone mette in atto un'altra tipica strategia che vedremo continuamente applicata anche nei 19 anni successivi prima del Consolato e poi dell'Impero. È la cosiddetta strategia dell'approccio indiretto o in francese manoeuvre sur le derrière o manovre sul retro che anche questa è una strategia che si studia in tutte le accademie militari oggigiorno. In che cosa consiste? Voi dovete affrontare un nemico che sono sempre gli arancioni, lo fissate su una data posizione usando uno schermo di truppe, che sono queste, e poi con il grosso del vostro esercito voi aggirate il fianco del nemico sfruttando ad esempio uno schermo strategico. In questo caso è un fiume. Poi lo attaccate da dietro, manoeuvre sur le derrière, quindi attaccate le sue linee di comunicazione e lo riuscite ad affrontare lungo le due direzioni. Ecco, guardate cosa fanno i francesi. Questo è quello che fa Napoleone nella prima settimana di maggio. Napoleone, e questo è interessante e va sempre tenuto presente perché la neutralità è una cosa da difendere con le armi, non basta dire io sono neutrale, Napoleone si disinteressa della neutralità del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, marcia rapidamente su Piacenza, si impadronisce del materiale di allestimento dei ponti di barche che era presente a Piacenza, attraversa il Po a Piacenza e punta su Pizzighettone e Lodi, Pizzighettone sta qui, Lodi sta un po' più sopra, che sono i due punti in cui c'erano i due ponti per attraversare l'Adda. Quindi che cosa succede? In questo modo l'esercito austriaco rischia di venire completamente circondato nella pianura padana, nella zona di Milano. Vistisi aggirati, gli austriaci cercano di reagire, quindi che cosa fanno? Si ritirano precipitosamente. Tra il 7 e il 9 maggio i francesi vincono le battaglie di Fombio e Pizzighettone, che stanno in questa zona qui così, e conquistano il ponte sull'Adda a Pizzighettone. Sfruttando le vittorie ottenute, Napoleone stipula con il Duca di Parma, Parma, Piacenza e Guastalla, un trattato di pace e anche qui il Duca, pur di non avere questioni, non avere problemi, versa notevoli contributi ai liberatori francesi, mette a disposizione una grande quantità di vettovaglie, di opere d'arte e così via. L'1 maggio, il primo di maggio, Napoleone aveva scritto all'intendenza, le operazioni sono del 7 e 9 maggio, aveva scritto alla propria intendenza, all'intendenza dell'esercito, le seguenti parole. Mandatemi un elenco di dipinti, statue e curiosità di Milano, Parma, Piacenza, Modena e Bologna. Interessante perché questa requisizione di opere d'arte costituirà il nucleo originario di quello che all'epoca si chiamerà il Museo di Napoleone e attualmente si chiama il Museo del Louvre. L'unica possibilità che è rimasta agli austriaci per superare l'Adda e ritirarsi verso il quadrilatero, che tutti noi abbiamo studiato quando abbiamo fatto le scuole superiori, abbiamo studiato le guerre di indipendenza italiane, ma il quadrilatero c'era anche all'epoca, è quella di attraversare l'Adda a Lodi, verso cui i francesi stanno puntando per impedire appunto l'attraversamento. Il 10 maggio i francesi attaccano una forte retroguardia austriaca al ponte di Lodi, mentre, per fortuna degli austrieci, per fortuna loro, mentre la restante parte dell'esercito austriaco si sta ritirando su Cremona e poi su Mantova e sulla linea del Mincio, e quindi stiamo arrivando qui. La battaglia del ponte di Lodi, che è un episodio abbastanza famoso legato alla figura di Bonaparte, è forse direi l'episodio più famoso della prima campagna d'Italia, è di fatto un combattimento secondario, che però è un combattimento che crea, anche propagandisticamente, il mito di Napoleone. Napoleone, ad esempio, si ferma tra gli artiglieri francesi e fisicamente punta, Napoleone era un sottotenente, all'epoca aveva studiato come ufficiale d'artiglieria, quindi era uscito dalla scuola militare con il grado di sottotenente di artiglieria, probabilmente ci capiva qualcosa di artiglieria, punta il cannone verso il nemico, incurante del fuoco avversario, ci dicono le fonti dell'epoca. Siccome questo era un lavoro che normalmente facevano i caporali addetti ai pezzi di artiglieria, da quel momento lì Napoleone diventa l'epetit caporale, il piccolo caporale, per cui dall'episodio del ponte di Lodi deriva questa indicazione, questa denominazione, questo nomignolo, tra i tanti nomignoli che sono stati dati a Napoleone. Nella fase critica della battaglia del ponte di Lodi è addirittura necessario forzare il passaggio del ponte, per cui viene creata una colonna d'attacco, una colonna di truppe scelte, normalmente erano battaglioni combinati, reparti combinati di granatieri e di carabinieri, non pensate ai carabinieri moderni, i granatieri e i carabinieri erano le truppe d'élite della fanteria di linea e della fanteria leggera degli eserciti francesi. È un compito quasi suicida, tant'è che il primo attacco viene respinto con perdite e il secondo attacco riesce a sfondare le linee nemiche e a far arretrare gli austriaci. In questo episodio il nostro, Buonaparte, si accredita di aver caricato alla testa di questa colonna di truppe scelte con la bandiera al vento, come è rappresentato in alcune raffigurazioni, in alcune immagini. I francesi catturano il ponte di Lodi che sfortunatamente gli austriaci non erano riusciti a far saltare e quindi prendono la linea dell'Adda. Il 15 maggio Napoleone entra a Milano accolto trionfalmente dai giacobini milanesi perché in tutta Italia, in tutte le città d'Italia c'erano delle fazioni che erano filo francesi, filo repubblicane, filo giacobine e delle fazioni che evidentemente vedevano i francesi come degli invasori, come degli atei, degli anticristiani, come veniva detto e come si trova scritto. E quindi c'è una situazione tipica che si verifica in molte città in cui i francesi entrano come liberatori. Molti erano, come vi dicevo, sinceramente felici ed eccitati delle idee rivoluzionari. Probabilmente erano i ceti, si dice, professionali, vuol dire i notabili, gli avvocati, gli artigiani, gli amministratori, i commercianti, le cosiddette elite secolarizzate. Ovviamente non erano d'accordo con questi i contadini che in larga misura, se non quasi completamente, erano cattolici e vedevano i francesi, come vi dicevo, come degli atei stranieri. Napoleone arriva a Milano, prende alloggio a Palazzo Serbelloni, che è nell'attuale Corso Venezia, e ovviamente impone alla liberata Lombardia un pesante contributo economico per sostenere l'esercito e il famelico direttorio che gestiva la Francia e che si trovava, come vi dicevo, sull'orlo della bancarotta. Anche qui, anche in Lombardia, anche a Milano, iniziano, oltre che le requisizioni alimentari, anche le requisizioni di opere d'arte, direi le ruberie legalizzate. Ecco, questo che vedete a sinistra è all'interno di Palazzo Serbelloni a Milano, dove ha soggiornato Napoleone, e qui vedete due ussari, due soldati della cavalleria francese, distanza a Milano in questo periodo. Quando Napoleone è a Milano avviene anche una situazione particolarmente, non saprei come definirla, diciamo incresciosa. A causa delle requisizioni di cavalli di vettovagliamento operate dai francesi, il 23 e il 24 maggio ci sono dei tumulti a Pavia e nel territorio limitrofo. Molti contadini si armano, sono in rivolta, si armano, gli avevano portato via tutto, per cui morire di fame o morire per una fucilata dei francesi non faceva molta differenza. Si barricano a Binasco, che è una cittadina che sta a metà strada tra Milano e Pavia, e si armano di tutto punto per difendersi dai francesi. Alcuni francesi vengono uccisi, i francesi intervengono. A Pavia i francesi sparano sul Consiglio Comunale e caricano gli insorti con la cavalleria. A Binasco va peggio, perché il paese viene colpito dall'artiglieria attaccato dai francesi. Un centinaio di contadini vengono uccisi e il paese viene dato alle fiamme. Per evitare che la rivolta si diffonda nella Lombardia, vengono trasferiti in Francia 500 ostaggi delle famiglie più altolocate della Lombardia, in qualità di, li hanno chiamati, prigionieri di Stato. Napoleone più tardi dell'episodio di Pavia e soprattutto di Binasco dirà, ricordate Binasco, mi ha procurato la tranquillità in tutta Italia e ha risparmiato lo spargimento di sangue di migliaia di persone. Nulla è più salutare degli esempi adeguatamente severi. Questa stessa cosa, se fosse capitata in un altro periodo storico, sarebbe chiamata in una maniera diversa. Ma qui mi fermo sulle mie considerazioni. E arriviamo alla terza fase della campagna, l'attraversamento del Mincio. Che cosa è successo? Gli austriaci, dopo le batoste prese in Lombardia, si sono ritirati sulla linea del Mincio, inseguiti dai francesi, come vedete in questa rappresentazione. E il comandante austriaco, anche lui, non è che gli austriaci sono i buoni di questa storia. In questa storia di buoni non ce ne sono. Anche gli austriaci cosa fanno? Violano la neutralità veneziana e occupano la fortezza di Peschiera, dove arrivavano le loro linee di comunicazione dal Brennero. Napoleone lascia Milano il 22 di maggio e riprende l'offensiva il 28. Il centro delle operazioni francesi adesso è a Brescia. Quindi Napoleone arriva a Brescia in quel momento specifico, attorno alla fine di maggio del 1796. Gli austriaci sono dietro la linea del Mincio. Attenzione, la linea del Mincio, che è la prima linea del quadrilatero, è una linea geografica molto particolare. La strategia è una questione di geografia. Perché? Perché la linea del Mincio è chiusa tra due sbarramenti naturali. Sopra c'è il lago di Garda, che è uno sbarramento naturale direi importante. E sotto, quindi con il lago di Garda, è la fortezza di Peschiera come posizione di terra difensiva. Mentre dalla parte opposta cosa c'è? C'è la piazzaforte di Mantova, che anche questa è una città fortificata, che è circondata da, anche adesso è così, da tre lati dall'acqua, con il Po che forma uno sbarramento nel lato meridionale. Tra l'altro questa è anche la linea più stretta del fronte dell'Italia settentrionale. Questo è anche il motivo per cui tutte le volte che c'è sempre stata una guerra in Italia settentrionale, gli eserciti si sono ritirati e sono andati a finire lì e poi hanno sempre combattuto in quella zona lì così. Per cui Solferino e San Martino, Pastrengo, Bussolengo, sono tutte custozza, sono tutte zone che si trovano più o meno in quella zona lì e la motivazione è questa. Guardate questa configurazione geografica di come sono disposti gli eserciti. Anche qui Napoleone mette in atto un'altra manovra strategica che sarà molto usata in futuro ed è quella che si chiama la penetrazione strategica. Anche questa oggi la si studia nelle accademie militari. C'è uno storico americano, se non ricordo male, che ha scritto che dopo il primo mese della campagna in Italia Napoleone aveva completamente rivoluzionato e ribaltato il modo di fare la guerra che si faceva precedentemente, cioè nel Settecento. E peraltro devo dire che è vero, cioè se uno guarda la figura di Napoleone solo dal punto di vista militare c'è di che essere meravigliati di quello che questa persona, quest'uomo, ha fatto. Come dicevamo anche in questo caso Napoleone mette in pratica una manovra specifica che viene studiata, che è la penetrazione strategica. Diciamo che voi volete affrontare un nemico, che sono sempre gli arancioni, che sono distesi a difesa su una posizione naturale, per esempio un fiume, quindi sono frammentati su tutta la linea di difesa del fiume. Che cosa si fa? Lo fissate con uno schermo di truppe lungo questa barriera strategica e poi concentrate il grosso in un punto e attaccate il nemico. Lo sfondate e poi aggirate il nemico lungo entrambi i fianchi. Questa roba qui, se qualcuno, io non mi interesso di seconda guerra mondiale, ma se qualcuno si interessa di seconda guerra mondiale, questa è la tattica della blitzkrieg della seconda guerra mondiale, perché funzionava così. Se tu hai una difesa continua, per sfondarla devi fare in questo modo. Non è che i tedeschi hanno inventato chissà che cosa, se l'avevano già inventato prima. Hanno sfruttato i mezzi che avevano a disposizione per ottimizzarla, ma l'idea strategica esisteva già da, direi, parecchio tempo. E qui cosa fa Napoleone? La stessa cosa. Qui vediamo la manovra in esecuzione. Napoleone concentra la massa di manovra su Borghetto e Valeggio del Mincio, posti che conoscete, sono andato a visitarli anch'io con la mia compagna che è di Brescia, e buca lo schieramento austriaco il 30 maggio 1796. È la cosiddetta battaglia di Borghetto. Gli austriaci che cosa fanno? Gli austriaci si ritirano in parte verso Trento e il Brennero. Questa è sempre stata una linea di penetrazione degli eserciti austro-imperiali per arrivare in Italia settentrionale e un'altra parte invece si dirige verso Verona e poi si ritira dietro la linea dell'Adige che è un altro sbarramento naturale. Una parte delle forze austriache si rinchiudono a Mantova e vengono messe sotto assedio dai francesi. Il nostro generale austriaco, cioè il Borghetto, viene come sempre succede, viene silurato e destituito dal comando perché ne aveva perse troppe e tanto per cambiare anche in quest'area i francesi impongono delle requisizioni, recuperano un po' di risorse alimentari, di bestie di assoma e nei territori liberati, è un eufemismo liberati come avete capito, viene sottoposto un pesante tributo e una discreta sottrazione di opere d'arte anche qui nel territorio bresciano. La guerra costa e quindi in qualche modo va finanziata. Questa cosa qui non è solo un problema napoleonico, è sempre così. La guerra costa, lo diceva già Machiavelli. Machiavelli diceva una cosa, per fare la guerra ci vogliono tre cose, i soldi, i soldi, i soldi. Quindi non dimenticatele queste cose perché magari valgono anche adesso. E veniamo alla quarta fase della nostra storia, che è l'ultima, è l'ultima che raccontiamo questa sera, è il cosiddetto contrattacco austriaco. Cioè a un certo punto gli austriaci non è che se ne stanno fermi tranquilli dopo aver preso batoste per tutta l'Italia settentrionale. È stato sostituito il comandante di prima, il generale Bolliot, è stato sostituito da quest'altro personaggio, anche lui in là con l'età, perché anche lui aveva più di 70 anni durante la prima campagna d'Italia, von Wurzer, il nuovo generale austriaco. Vediamo come sono disposti i francesi. Napoleone ha il suo quartier generale a Brescia e l'esercito francese è dislocato nel quadrilatero Peschiera, Verona, Legnago, Mantova. Praticamente i francesi stanno tra la linea del Mincio, che è questa, e la linea dell'Adige, che è questa qui. Per cui ci sono due sbarramenti geografici e il motivo per cui il quadrilatero è così importante è un motivo essenzialmente di tipo geografico. Napoleone ha ricevuto dei rinforzi, infatti vedete che il suo esercito è aumentato, prima era attorno ai 38.000 uomini, adesso siamo arrivati a 50.000 uomini, però sono sparpagliati su un'area molto ampia. Gli austriaci a giugno si concentrano a Trento per il contrattacco e sono circa 50.000. Gli austriaci scendono verso la pianura padana lungo tre direttrici, a ovest e a est del lago di Garda, quindi seguono, vediamo se mi ricordo bene, la valle, correggetemi se sbaglio, visto che siete di queste parti, la valle del Chiese e poi che diventa Valsabbia, perché la Gardesana c'era ma non era carrabile bene come la strada che passa per il lago d'Idro. Questo è il lago d'Idro, giusto? La strada che passa per il lago d'Idro e poi l'altra direttrice di attacco è quella nel lato orientale del lago di Garda, quindi da Trento Rovereto per arrivare fino a Peschiera del Garda. Poi vi è una terza direttrice di avanzata che è lungo la valle del Brenta, quindi dalla Val Sugana, la valle del Brenta, Bassano del Grappa, Vicenza e poi si arriva su Verona. Qui ci sono una serie di eventi abbastanza complicati e io cerco di rappresentarli per quanto possibile anche con una simulazione animata, vediamo se si riesce. Allora il 29-30 luglio, come vedete lì in alto, gli austriaci attaccano i distaccamenti francesi che sono a presidio dei due lati del lago di Garda. Sul lato occidentale i francesi sono battuti a Gavardo e a Salò e si ritirano su Lonato e Desenzano inseguiti dagli austriaci. Gli austriaci in questa fase arrivano anche a Brescia, eccoli vedete i francesi che si ritirano su Lonato e Desenzano inseguiti dagli austriaci. Dal lato orientale invece i francesi sono stati battuti a Rivalta Veronese, che è vicino a Rivoli Veronese, e anche qui si ritirano su Peschiera. La terza colonna austriaca scende da Vicenza e arriva all'Adige e Napoleone quindi cosa decide di fare? Decide di concentrare le sue truppe e la prima cosa che fa è togliere l'assedio della città di Mantua richiamando parte delle truppe verso Goito e Valeggio. Ecco qua, questa è la ritirata delle truppe francesi dal quadrilatero per concentrarsi sulla riva occidentale del Mincio. 31 luglio, questa è la situazione al 31 luglio. I francesi contrattaccano gli austriaci a Lonato, qui così, il 31, e li respingono in quella che viene chiamata la prima battaglia di Lonato. Qui vedete gli austriaci che sono respinti. Intanto Napoleone ha riunito il grosso delle truppe francesi a Castiglione, eccolo qua, si stanno riunendo in quel punto, per creare una massa di manovra e sfruttare di nuovo la posizione della strategia centrale. Gli austriaci stavano a Occidente, a Oriente del Lago di Garda, lui ha la posizione centrale, ha la possibilità di attaccare prima un nucleo delle forze nemiche e poi il nucleo opposto. Il primo agosto i francesi, dopo un nuovo scontro, riprendono Salò. Nel frattempo alcune forze francesi provenienti da Bergano arrivano nuovamente a Brescia e quindi riprendono Brescia e gli austriaci, per timore di essere tagliati fuori dalle loro linee di comunicazione, si ritirano su Gavardo. Nel frattempo il grosso delle forze austriache invece prende la linea del Mincio, quindi a Valeggio, e si allunga verso Goito perché la preoccupazione era legata all'assedio di Mantova. Per contro Napoleone ha ormai riunito la sua massa di manovra a Castiglione. Ok, ecco, li vedete. 2 agosto, pian pianino stiamo arrivando, la battaglia di Castiglione è del 5 di agosto, adesso ci arriviamo. Siamo al 2 agosto, le linee di comunicazione francesi con Brescia e poi con Milano sono di nuovo libere. I francesi che assediavano Mantova si sono ritirati su Marcaria e gli austriaci invece con una piccola frazione delle proprie forze assediano Peschiera del Garda in cui si sono asseragliati alcune unità francesi. Ma il grosso delle forze austriache si trova qui schierato tra Valeggio e Goito. Alle forze austriache che si trovano a Gavardo viene ordinato di attaccare verso Castiglione e quindi di muoversi nuovamente per contrastare i francesi che sono attestati a Desenzano e a Lonato. C'è un nuovo scontro a Salò, i francesi vengono respinti e le forze austriache scendono verso Lonato e Desenzano. Se a questo punto le due forze combinate austriache chiudessero su Napoleone io credo che Napoleone avrebbe rischiato di rimanere schiacciato invece da questa manovra a Tenaglia. Invece così non è perché il comandante austriaco rimane fermo sulla linea del Mincio e quindi Napoleone ha la possibilità di risolvere la partita sul lato di Lonato Desenzano. Il 3 agosto Napoleone decide di risolvere definitivamente la minaccia su quel lato e quindi che cosa fa? Distacca una parte del suo esercito che si trovava concentrato attorno grosso modo a Castiglione delle Stiviere, attacca gli austriaci presenti a Lonato e a Desenzano e li insegue fino a Salò. Gli austriaci vengono battuti e inseguiti fino a Salò. Gli austriaci su questo lato si sbandano e il 4 di agosto i francesi fanno addirittura 4.000 prigionieri. Qui vedete l'immagine di Bonaparte che riceve la resa delle truppe austriache a Lonato e questa è la cosiddetta seconda battaglia di Lonato. Arriviamo al 4 agosto. Cosa succede? Il 4 agosto il grosso delle forze austriache supera, che era quello che si trovava sulla sponda orientale del Mincio, supera il Mincio e converge verso Castiglione. Napoleone richiama prontamente tutte le truppe che erano presenti in zona per affrontare il nemico sulla piana di Castiglione, che è Castiglione delle Stiviere, che è esattamente lo stesso posto in cui nel 1859 si sono nuovamente affrontati i francesi e gli austriaci nella battaglia che è stata chiamata di Solferino e San Martino. Questa si chiama battaglia di Castiglione ma il posto è esattamente lo stesso. Ecco qua. Qui che cosa vedete? Qui vedete il punto in cui si stanno concentrando da un lato i francesi, sono le freccette azzurre, dall'altro gli austriaci e sono le freccette rosse. Però prima di parlarvi specificamente della battaglia di Castiglione io mi permetto, se posso, di segnalarvi una cosa che io personalmente ho trovato interessante e se vi interessa, se mi avete seguito in tutti questi strani movimenti delle truppe, bene. Se no vi consiglio di andare a vedere questa cosa qui. Questa cosa qui è stata fatta da quel signore che è lì seduto, che ci siamo scritti per posta elettronica, si chiama Alberto Fossadri, che ha questo canale Brescia Genealogia, che ha fatto questo video che secondo me è molto interessante e rappresenta bene tutte le manovre dal punto di vista strategico degli eserciti francesi e austriaci nei giorni precedenti, la battaglia, le due battaglie, la coppia di battaglie di Lonato e Castiglione. Lonato il 3 di agosto, Castiglione il 5 di agosto. Battaglia di Castiglione. Qui vedete il campo di battaglia. Gli austriaci sono ancorati a nord, a Solferino, e a sud ad un leggero rilievo del terreno che è chiamato pomposamente il Monte Medolano. Io sono andato a vedere dal punto di vista orografico, è una posizione che è alta 5 metri in più rispetto al restante terreno circostante. Poi vedrete anche delle immagini perché ci sono delle raffigurazioni pittoriche e il Monte Medolano è raffigurato come se fosse un monte. Andate a vederlo perché è qua vicino, Medole sta abbastanza vicino. Gli austriaci cosa hanno fatto su questo Monte Medolano? Hanno sistemato una batteria d'artiglia. Vi racconto una cosa curiosa. Io ogni tanto, per lavoro, lavoro tanto anche su questioni di tipo legale e mi è capitato più di una volta di andare a Mantova per delle questioni di natura legale. Ecco, tutte le volte che io vado a Mantova, quando torno indietro io mi fermo a guardare qualche punto particolare del campo di battaglia della zona di Solferino e San Martino perché la trovo sempre interessante e ci sono degli spunti che a me personalmente interessano. Poi magari qualcuno dice ma questo qui è matto, però io faccio queste cose qui. Gli austriaci sono circa 25.000 uomini, sono schierati in modo lineare, in modo settecentesco, con la fanteria al centro e la cavalleria sul lato sinistro nella piana di Medole. Perché se voi andate a vedere il campo di battaglia di Solferino, questa zona qui, da questa parte a nord, comincia una zona collinare con delle colline di tipo morenico, per cui in questa zona la possibilità di far operare la cavalleria, è la stessa cosa che succede anche nel 1859, è estremamente limitata. Le masse di cavalleria, le masse, è una parola grossa parlando del nord Italia, i reparti di cavalleria operavano soprattutto nella piana di Medole. I francesi all'inizio della battaglia sono inferiore di numero al nemico, sono 21.000 e sono schierati, vi anticipo, in ordine misto. Poi adesso vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Napoleone, come poi farà spesso in molte altre battaglie, conta sull'arrivo sul campo di battaglia delle altre truppe francesi che stanno marciando al rumore del cannone, che era una delle cose che facevano. Quando senti il cannone tuonare, tu marcia in direzione del rumore del cannone e arrivi sul campo di battaglia e hai anche la possibilità di magari arrivare alle spalle del nemico. Questa è una cosa che farà Napoleone, per esempio in alcune circostanze, gli riuscirà benissimo, come ad esempio a Austerlitz, alcune volte gli riuscirà meno bene, come a Eilau, e alcune volte non gli riuscirà per nulla, come ad esempio a Waterloo. Ma io vi ho detto che gli austriaci erano schierati in ordine lineare, mentre i francesi erano schierati in ordine misto. Che vuol dire? Allora, i battaglioni di fanteria combattevano in ordine chiuso, con gli uomini schierati uno a fianco all'altro, spalla a spalla. Ogni uomo nella formazione occupava circa, se era più corpulento un po' di più, se lo era meno un po' di meno, circa 60 centimetri di fronte. La profondità era una profondità di tre file, c'erano tre file di uomini schierati spalla a spalla. Per quale motivo? Perché le armi erano delle armi ad avancarica, erano largamente imprecise, avevano un volume di fuoco che era ridotto, sparavano un colpo, due colpi al minuto come massimo e quindi per riuscire a sviluppare un volume di fuoco sufficientemente adeguato dovevano essere raggruppati in una formazione compatta. La gittata di queste armi era di un centinaio di metri e non di più la gittata efficace di queste armi. Per avere una qualche efficacia i reparti sparavano all'unisono, il tiro non era un tiro mirato, i soldati non miravano, tiravano, facevano quello che si dice in termini militari un tiro d'area, come facevano ad esempio gli arcieri nel periodo medievale, tiravano e scagliavano le frecce, poi dove le frecce cadevano non era importante, l'importante era saturare un'area che era l'area sul fronte dell'unità e questo era quello che facevano gli eserciti nel 1700 e ma anche nell'800 quando sparavano. Qui vedete una formazione di un reparto che dalla colonna si schiera in linea, lo vedete qua così, la singola compagnia la vedete rappresentata qui sono gli uomini schierati spalla a spalla profondi tre righe. Questo invece è l'ordine misto francese, cioè che cosa facevano i francesi? I francesi anziché avere le unità schierate in linea avevano i reparti, diciamo quelli che si chiameranno successivamente i reggimenti, qui le chiamavano mezze brigate, demi brigade, perché non usavano più il termine, anche questa è una cosa tipica di tutte le rivoluzioni, cambia anche il linguaggio per cui i mesi non si chiamano più gennaio, febbraio, marzo ma hanno un'altra denominazione durante il periodo della rivoluzione francese, i reggimenti non si chiamano più reggimenti ma si chiamano mezze brigate, demi brigade, prendevano una mezza brigata, un reggimento e c'era un reparto in linea che aveva la possibilità di sfruttare la potenza di fuoco e due reparti in colonna sul fianco che avevano la possibilità di attaccare il nemico con la cosiddetta azione risolutiva. Qui vedete come secondo me doveva apparire un repà, diciamo una linea in combattimento durante le guerre napoleoniche, c'erano delle truppe schierate in formazione, c'erano degli schermagliatori sul fronte, delle truppe che operavano in ordine aperto, in ordine sparso, qui ho cercato di rappresentarle con questi puntini verdi e poi di riserva qualche centinaio di metri più indietro c'erano delle altre formazioni, delle altre unità di riserva. La maggior parte degli eserciti erano costituiti da fanteria, il 90% degli eserciti di questo periodo erano formati da fanteria ma era presente anche dell'artiglieria, i pezzi d'artiglieria qui li vedete indicati a sinistra, l'artiglieria operava in batterie e operava con batterie di 6-8 cannoni, l'artiglieria non è che veniva usata come viene usata adesso, per cui spara a qualche chilometro di distanza e l'artigliere non vede neanche il proprio bersaglio, il proprio obiettivo. Qui il tiro era un tiro diretto e l'artiglieria era come si dice un'arma di accompagnamento, un po' come adesso sono le mitragliatrici pesanti per i reparti di fanteria, aumentano il volume di fuoco, punto, ma fanno un tiro diretto, non un tiro indiretto come fa adesso l'artiglieria. L'artiglieria sparava la palla piena, è una palla piena su tutti i testi trovate scritto in ferro ma non è in ferro, è in ghisa perché in inglese il termine ghisa si dice iron, qui arriva la mia competenza metallurgica, si dice iron che tutti lo traducono come ferro perché in inglese ferro si dice allo stesso modo iron ma sono palle in ghisa, palla piena che veniva sparata e rimbalzava sul terreno e se ti arrivava addosso ti segava a metà, segava a metà te e quello che stava dietro di te, magari anche quello delle file che stavano dietro ancora. Se arrivavate a distanza ravvicinata l'artiglieria sparava i cosiddetti cartocci di mitraglia che li vedete qui così che non sono altro che degli involucri che contenevano delle sferette di ghisa che quando venivano sparati si aprivano a rosata. Ovviamente la gittata di questa tipologia di arma era molto più contenuta, le palle piene tiravano fino a circa, dipende dal calibro del cannone, circa 800-900 millimetri la mitraglia tirava alla metà, 300-400 massimo 500 metri. Dall'altra parte qui vedete la cavalleria, la cavalleria operava in squadroni, anche la cavalleria operava in formazioni chiuse, gli uomini combattevano anche lì spalla spalla, dimenticatevi le cariche che si vedono nei film hollywoodiani perché non hanno niente a che vedere con la realtà, perché l'azione risolutiva cioè la carica di cavalleria veniva effettuata al trotto perché era fondamentale mantenere la formazione e al massimo negli ultimi 10-15 metri i cavalli venivano lanciati alla massima velocità perché era fondamentale arrivare contro il reparto nemico in formazione compatta. La cavalleria era importante perché poteva trasformare una ritirata di un esercito nemico in una rotta. Ma torniamo alla battaglia, torniamo al campo di battaglia e vediamo come si svolge la battaglia. I francesi eseguono, come vedete qui così, dei finti attacchi al centro e poi tendono a ritirarsi. La massa di manovra francese rimane comunque non impegnata sul lato destro dello schieramento francese e queste ritirate inducono gli austriaci a pensare che i francesi si stiano allontanando dal campo di battaglia. Quindi gli austriaci avanzano ed escono dalle loro posizioni iniziali. All'inizio dell'avanzata austriaca però giungono sul campo anche le forze provenienti, le forze francesi provenienti da altri punti, in particolare le forze francesi provenienti da Marcaria, arrivano quasi esattamente alle spalle dell'esercito austriaco. Per contrastare questa manovra la seconda linea austriaca viene spostata per affrontare il nemico francese che è comparso e contemporaneamente però che cosa avviene? contemporaneamente a questo attacco i francesi attaccano sui due lati quindi attaccano con questa formazione consistente di reparti scelti e di artiglieria attaccano il monte Medolano da questa parte e dall'altra parte con delle forze francesi che erano arrivate da Desenzano attaccano la zona di Solferino in particolare dove c'è la torre di Solferino. Di questi attacchi è significativo l'attacco del monte Medolano perché è l'attacco chiave della battaglia, infatti i francesi prendono questa posizione e automaticamente si trovano sul fianco dell'esercito austriaco. Questa è un noto quadro della battaglia di Castiglione e questo quadro vorrebbe rappresentare Napoleone che dirige la manovra delle truppe dal monte Medolano. Vedete che questo monte Medolano è abbastanza sopraelevato rispetto alla pianura che si trova intorno. Se andate, come vi dicevo, a Castiglione, a Medole, a cercare il monte Medolano che non è neanche facile da trovare, se lo cercate su Google Map lo trovate, mettete Monte Medolano viene fuori la posizione, uno lo guarda e dice ma com'è sta roba qui. Invece, come dice un mio caro amico, anche lui esperto di storia militare che è Giovanni Cerino Badone, un esperto di storia militare del Settecento e dell'Ottocento, lui dice sempre per capire come è andata una battaglia bisogna andare a farsi una camminata sul campo di battaglia, così ci si rende conto di quante cazzate si trovano rappresentate sugli schemi che vengono riportati sui libri. Ma arriviamo alla fine perché credo che sennò magari vi state anche un po' annoiando visto che sono le 10.05. Dopo la presa del monte Medolano l'esercito austriaco è stretto in una morsa, attaccati sui due fianchi e sul retro, gli austriaci collassano ritirandosi precipitosamente verso Peschiera. I francesi però che in questa fase delle guerre della rivoluzione avevano poca cavalleria a disposizione non riescono, come vi dicevo prima, a trasformare quella che è una ritirata dell'esercito austriaco in una rotta. La battaglia si conclude e sul campo più o meno restano, le cifre non sono certe perché la registrazione delle perdite comincia a essere sufficientemente accurata dall'inizio dell'Ottocento. In questa fase non c'era ancora una registrazione delle perdite particolarmente accurata. Comunque si può stimare che gli austriaci abbiano perso qualcosa come 2.500-3.000 uomini su 25.000, quindi un 10-12% della forza iniziale impiegata e i francesi hanno perso 1.000-1.500 uomini, cioè un 4-5% della forza iniziale impiegata. Queste sono delle percentuali tipiche di tutte le battaglie del Settecento e dell'Ottocento in cui una delle forze viene battuta e l'altra prevale. Le percentuali di perdite sono sempre dell'ordine del 10-12-15% di chi viene sconfitto, 4-5-6% di chi risulta vittorizzato. Questo lo dico perché magari uno che non è abituato a affrontare queste tematiche può pensare che un esercito viene sconfitto quando viene sterminato fino all'ultimo uomo, come si vede per esempio in molti film. Ecco, non è così perché dopo che uno ha preso un 10-12% di perdite comincia a pensare che forse è meglio girare i tacchi e tornarsene a casa. Questa è la prima offensiva che fanno gli austriaci per liberare Mantova, è un'offensiva che come immaginate è stata respinta. Le forze francesi a valle della battaglia di Castiglione rimettono Mantova sotto assedio e gli austriaci si ritirano definitivamente da Peschiera e da Verona e tornano verso Rovereto e verso Bassano del Grappa. Allora quali sono le conclusioni della nostra storia? Allora come finisce la campagna d'Italia? Prima di fare questa chiacchierata ho chiesto a più di una persona, ma tu cosa ti aspetti che io racconti questa sera? E una persona mi ha detto come vuoi parlare di tutta la campagna d'Italia ma non ce la puoi fare ed effettivamente aveva ragione perché la campagna d'Italia continua e ci sono tutta una serie di altri tentativi austriaci di riprendere il nord Italia, di riprendere la Lombardia. In particolare gli austriaci fanno altri tre tentativi, uno nel settembre del 96, uno a novembre del 96 e uno a gennaio del 97. In tutti questi casi Napoleone riesce sempre a prevalere, sconfigge gli austriaci nelle battaglie di Arcole, di Caldiero e di Rivoli e a un certo punto la fortezza di Mantua che era sotto assedio cade a febbraio del 1797. Di fatto in questo momento Napoleone è padrone dell'Italia settentrionale. I francesi, visto che qui ci trovavamo nella Repubblica di Venezia, Napoleone era ormai padrone del nord Italia, mettono a punto anche in questo caso tutta una serie di belle spogliazioni della Repubblica di Venezia alla faccia dei giacobini della Repubblica che avevano inneggiato ai liberatori francesi in testa il foscolo e le casse della Repubblica di Venezia vengono svuotate. La Repubblica di Venezia era molto ricca, le casse completamente svuotate, i depositi auriferi completamente spariti e, tanto per darvi un numero, la flotta della Repubblica di Venezia viene completamente catturata dai liberatori francesi. Ad esempio vengono presi da Venezia 10 vascelli da 74 cannoni e 11 vascelli da 64 cannoni. Ma voi possono dire poco questi numeri? I vascelli da 74 e da 64 cannoni erano i classici vascelli di linea delle flotte del tempo, erano potremmo dire quelle che vengono chiamate le capital ship del Novecento, le navi da battaglia del Novecento erano le capital ship delle flotte. Ecco lì, in questo periodo, le capital ship erano i vascelli da 74 cannoni. La battaglia di Trafalgar, la battaglia di Aboukir tra i francesi e gli inglesi, Aboukir, Trafalgar e francesi spagnoli da un lato e inglesi dall'altro, sono combattute con prevalentemente vascelli da 74 cannoni, che erano i cosiddetti vascelli di terzo rango. A marzo 1797 Napoleone passa all'offensiva, sconfigge gli austriaci al tagliamento e addirittura invade il Friuli. Conquista il Friuli nel giro di poco più di una settimana, a fine marzo passa il Tervisio e il 28 è a Klagenfurt, è in Austria e ai primi di aprire arriva l'Oeben. L'Oeben si trova, se andate a guardare sulla cartina, a 160 chilometri da Vienna. A un certo punto gli austriaci dicono basta e infatti chiedono un armistizio e infatti a L'Oeben ci sono i cosiddetti preliminari di L'Oeben, cioè sono i preliminari di quella che poi sarà la pace di Campoformio che mette fine a questa guerra. A Campoformio, come vi dicevo, il 17 ottobre 1797 viene stipulato il Trattato di Pace tra la Francia e l'Impero Asburgico. Io li ho chiamati per tutta la serata austriaci ma si chiamava ancora Sacro Romano Impero perché fino al 1806 è Sacro Romano Impero, poi diventa Impero Asburgico e dopo il 66 diventa Impero Austro-Ungarico. La Francia acquisisce i Paesi Bassi Austriaci, eccoli là in alto, diventano francesi, è più o meno quello che è adesso grossomodo l'Olanda, prende il nome di Repubblica Batava e costringe Napoleone a far riconoscere all'Austria la cosiddetta Repubblica Cisalpina che di fatto con buona pace di chi pensa che sia in embrione quello che attualmente è la Repubblica Italiana, di fatto è una colonia francese, considerate le spogliazioni che sono state fatte in Italia settentrionale, che è costituita da che cosa? È la ex Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la città a fortezza di Mantua, la zona del Mantovano, Peschiera, la parte che era degli stati già veneziani che stavano a ovest della linea dell'Adige e del Po, il Modenese, il Principato di Massa e Carrara e le tre legazioni di Bologna, Ferrara e la Romagna, quindi tutta quella zona lì diventa la Repubblica Cisalpina con il tricolore bianco-rosso, bianco-verde che era come il tricolore francese in cui è stato sostituito al blu il verde. L'altra cosa interessante che era molto importante per i francesi, anche che la riva sinistra del Reno non è più un oggetto di contesa con l'impero asburgico. Qui vorrei evitare che qualcuno pensasse che la guerra tra la Francia e l'impero asburgico sia una cosa nata con la rivoluzione francese, non è assolutamente vero. Da sempre in Europa qualcuno puntava al predominio su tutta l'Europa e a partire dal 500 fino alle guerre d'Italia della prima metà del 500 fino alle guerre napoleoniche i due antagonisti erano da un lato la Francia dall'altro l'impero asburgico e questa cosa qui è andata avanti e anche se con la rivoluzione francese è cambiato chi comandava in Francia, siccome la strategia e le politiche estere è una questione, come dice qualcuno, di geografia, sono andati avanti con le questioni, con i problemi che si portavano ormai da qualche secolo. Nell'Ottocento è la stessa cosa, prima l'antagonismo è sempre stato l'antagonismo franco-austriaco e la guerra del 59 è una ripetizione becera dell'antagonismo franco-austriaco e poi l'antagonismo sarà l'antagonismo franco-tedesco e magari qualcuno pensa che è ancora così anche adesso, ma diciamo che magari qualcuno lo pensa. La Repubblica di Venezia sparisce dopo una storia millenaria alla faccia, come vi dicevo prima dei giacobini veneziani che avevano inneggiato all'arrivo di Napoleone. Al sacro romano impero viene ceduta Venezia e l'entroterra Veneto, non tutta quella che era l'originaria Venezia perché è Venezia fino al confine cisalpino del Po e dell'Adige, più l'Istria e la Dalmazia, a grosso modo fino alle bocche di Cattaro e invece le isole veneziane, quelle che erano dello stato da mar veneziano, per esempio Corfu, Zante, Cefalonia, Cerigo, diventano dei possedimenti francesi. Ovviamente per la Francia è un risultato strepitoso dal punto di vista strategico, quello che ha ottenuto la Francia con la prima campagna d'Italia è strepitoso. La Francia ha acquisito il controllo su una provincia che era ricchissima e che lo è ancora adesso, che è il Nord Italia, e ha creato due entità statuali, la Repubblica Batava, dove c'è l'Olanda, e la Repubblica Cisalpina, che fanno da cuscinetto verso il Sacro Romano Impero e verso la Prussia, che sono due degli antagonisti che poi si ripeteranno sui campi di battaglia di tutte le guerre napoleoniche. di tutte le guerre napoleoniche. Non dimentichiamo una cosa, perché non vorrei non tenere conto di un aspetto fondamentale. Con questa campagna militare, che è la prima campagna militare di Napoleone, Napoleone ha di fatto rivoluzionato per sempre l'arte militare e il modo di fare la guerra. Come dicevano una volta, quando c'era una trasmissione interessante su Rai Storia, un libro, un luogo, un film. Allora, un libro, un luogo, un film. Un libro, se vi interessa approfondire un po' queste storie che vi ho raccontato, andate a pescarvi le campagne di Napoleone di Chandler, che è scritto in italiano, è un po' datato, perché l'edizione originaria del 1967, o 66, non ricordo di preciso, è stata tradotta in Italia qualche anno dopo e costantemente viene ripubblicata. Se trovate un'edizione vecchia è meglio, perché almeno vedete le cartine rappresentate bene. Le edizioni recenti hanno le cartine rappresentate da cani. Un luogo, purtroppo un luogo, si fa fatica a trovarlo, perché una volta c'era un bellissimo museo napoleonico a Rivoli Veronese, che però adesso è stato chiuso e verrà trasferito in questo forte, che è il forte Volgemüt, che vedete lì così, che è vicino a Rivoli, è il cosiddetto forte di Rivoli. Però io ho scritto al museo, prima di fare questa presentazione, hanno detto, sentite, io devo fare questa presentazione, volevo parlare del museo, e mi hanno detto, no, guardi, il museo è chiuso, lo stanno trasferendo, non sappiamo quando, forse la prossima primavera, però chi lo sa. È un film, magari qualcuno di voi l'ha già visto, io vi consiglio veramente per capire lo spirito dell'età napoleonica, questo film che è I duellanti, è rispetto a tanti altri film sul periodo napoleonico, un film che non ha scene di battaglia, ma è un film che rappresenta questi due ussari francesi, che per tutte le guerre napoleoniche, ogni volta che si incontrano, fanno un duello, strani, gli ussari erano personaggi strani, e secondo me rappresenta bene lo spirito del tempo. Tra l'altro è il, come si chiama, è il primo film di un regista famoso, che è il regista del gladiatore, cioè di Ridley Scott, è il primo film in assoluto che lui ha fatto. Detto questo, io ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi raccontato qualcosa che non conoscevate, se qualcuno è interessato alla presentazione mi scriva che gliela mando. Grazie. Grazie.